Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo per martedì 31 gennaio 2023 a cura di Meteograd. Quadro riassuntivo su simulazione satellitare. Espansione dell'alta delle azzorre verso i settori centro-meridionali europei, mentre ad est scorrono masse di aria fredda ed instabile verso i settori orientali europei fino sul Mar Nero e Turchia. Segue ora il dettaglio modellistico previsionale e successiva tendenza. Evoluzione sul comparto euromediterraneo. Il flusso freddo polare in uscita dalla Groenlandia sposta l'alta delle azzorre leggermente più a destra, portando tempo stabile e soleggiato su tutti i settori sud-occidentali europei. Sul bordo orientale di tale anticiclone scorrono masse di aria fredda ed instabile verso l'Europa centro-orientale, fino a scivolare sui Balcani in direzione del Mar Nero e della Turchia. Su queste zone attese condizioni pienamente invernali con nevicate frequenti. Previsioni meteo in area italiana per martedì 31 gennaio 2023. Nord. Bel tempo in area montana e collinare, mentre sulle pianure insisteranno diffuse nebbie che localmente potrebbero insistere per l'intera giornata, in particolare sulla Val Padana centrale. Centro. Stabile e soleggiato salvo la presenza di qualche nebbia mattutina nelle conche interne, in fase di rapida dissoluzione. Possibili anche dei locali addensamenti sui settori più compatti a ridosso dei rilievi. Sud e isole. Un flusso freddo di matrice balcanica porta nuvolosità sparsa un po' su tutte le zone, più compatta sui settori insulari e ionici, dove si avranno rovesci sparsi con neve in appennino. Tendenza dal pomeriggio ad ampie schiarite a partire da nord. Temperature massime in lieve aumento, soprattutto al nord e sui settori centro-settentrionali tirrenici. Valori piuttosto bassi in Val Padana in occasione delle nebbie. Minime nel complesso stazionarie. Ventilazione dai quadranti settentrionali, da debole al nord fino a moderata, localmente forte, al sud e sulle isole. Mari da mossi sui settori settentrionali a molto mossi altrove. Moto ondoso in attenuazione dalla sera ad iniziare da nord. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale per i successivi due giorni. La penisola sarà lambita dal flusso freddo ed instabile in azione sui Balcani, che porterà leggera instabilità al centro-sud lato adriatico e sui settori ionici, soprattutto giovedì. Altrove stabile e soleggiato salvo la presenza di locali banchi di nebbia sulla Val Padana centrale, specie mercoledì. Inoltre, l'addossamento di aria fredda all'arco alpino porterà nevicate sui versanti esteri in parziale sconfinamento su Trentino ed Alto Friuli. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.